Favorire l'accesso a bandi e finanziamenti UE. Con questo scopo nasce la cooperativa Realize, presentata in comune. La tendenza negativa vede l'Abruzzo e in particolare la provincia dell'Aquila tra i minori utilizzatori di risorse economiche messi a disposizione dall'Unione Europea, mentre contestualmente mostra una crescita dei tassi di disoccupazione e di spopolamento. Realize nasce proprio per invertire questa tendenza. Si tratta di una cooperativa sociale fondata da quattro giovani professionisti aquilani che potranno offrire supporto a imprese start-up, orientando e sostenendo le idee di chi vuole investire nel territorio. Sono partner di progetto e della cooperativa l'Istituto di istruzione superiore Andrea Bafile, il liceo Domenico Cotugno, comune, provincia e università dell'Aquila. I quattro soci sono Federico Congiuch e anche il presidente Leonardo Caldarelli, Emanuele Anatone e Andrea Foglieroni. In conferenza stampa anche il sindaco Pierluigi Biondi, il prorettore dell'Ateneo Alessandro Vaccarelli, la vicepreside del Cotugno. Si tratta di una bella iniziativa rivolta ai giovani e fatta da giovani che si mettono a disposizione per informare e orientare, ma anche assistere, nell'ambito dei bandi che spesso, pur essendo una grande opportunità, rimangono sconosciuti o di difficile comprensione, tutto allo scopo di favorire la nascita di giovani imprese e anche attrarre investimenti da fuori. Un progetto a cui abbiamo risposto un bando della presidenza del Consiglio dei Ministri, Fermenti, che è un bando pubblicato nel 2019. L'obiettivo che ci siamo dati è quello di vivacizzare, ambizioso, vivacizzare il mercato del lavoro, ma anche dell'imprenditorialità, quindi favorire la creazione di imprese sul territorio e l'attirare investitori anche da fuori città. È un obiettivo ambizioso, abbiamo molte attività da mettere sul campo, fra le prime che attiveremo c'è quella dedicata alla formazione rivolta a giovani o a disoccupati di lungo corso, formazione gratuita e professionalizzante e qualificante. Poi partiremo con uno sportello sul territorio proprio volto a incontrare un'utenza giovane e tutte le persone che vogliono creare l'impresa all'Aquila per dare un supporto sia per intercettare i fondi europei, ma anche per creare l'impresa e seguirla passo passo, unendo magari anche queste occasioni di formazione per creare degli imprenditori coraggiosi, ma anche preparati a affrontare le varie sfise che poi il mercato imprenditoriale propone. Grazie a tutti.